La provincia di Pesero Urbino e quella di Fermo diventeranno zona rossa da mercoledì 10 marzo aggiungendosi a quelle di Ancona e Macerata che già erano rosse dalla scorsa settimana. Una decisione drastica quella presa oggi dalla giunta regionale delle Marche ma una decisione motivata dal creare un argine a protezione di ospedali e terapie intensive a rischio collasso. Sono infatti arrivati a 729 i ricoveri nella regione Marche cioè 15 in più della giornata di ieri e 35 in più di due giorni fa. I ricoverati in terapia intensiva sono saliti a 104 cioè 10 in più di due giorni fa. Davvero troppi. Così la provincia di Pesero Urbino si prepara al rosso dopo una recente crescita di contagi del 45 per cento che la porta molto vicina al limite dei 250 positivi ogni 100.000 abitanti misura che determina in automatico la zona rossa. Oggi come ogni lunedì si è ridotto il numero di casi positivi perché si è ridotto il numero di tamponi. Sono infatti 349 i casi di contagio registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore di cui solo 11 in provincia di Pesero Urbino contro gli 86 di Macerata e addirittura i 209 di Ancona che radunano due terzi dei contagi. 349 casi su 1739 diagnosi con un rapporto positivi testati del 20,2 per cento. Entrare in zona rossa limiterà da mercoledì gli spostamenti solo a comprovati motivi di necessità, lavoro, salute, rientro nel proprio domicilio. In zona rossa bar, pasticcerie, attività di ristorazione si limiteranno all'asporto e alla consegna domicilio. Chiudono le attività commerciali e restano aperti solo i negozi di prima necessità quali punti vendita alimentari, farmacie o edicole. Chiudono anche parrucchieri e centri estetici. Chiudono soprattutto tutte le scuole dall'asilo nido fino all'università. Il provvedimento è un provvedimento temporaneo perché sono in attesa di eventuali altri provvedimenti di carattere nazionale che il governo Draghi sta decidendo in queste ore e in questi giorni. Io credo che abbiamo retto fino a questo momento meglio di altri o per fortuna ma probabilmente anche per il fatto che abbiamo controllato di più. Ancora una volta dobbiamo resistere, ancora una volta dobbiamo tenere botta. È difficile per tutti sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle libertà personali però la guerra contro il virus continua, la lotta contro il virus continua, dobbiamo sconfiggerlo con il vaccino e quindi è importante fare il vaccino e è importante che la campagna di vaccinazione vada avanti il più velocemente possibile.